A Dimensione Cliente 2015 è stata presentata per la prima volta al mondo bancario HelpCard. A che cosa serve? HelpCard è una carta di sconti in sanità. Che cosa vuol dire sconti in sanità? Vuol dire che la nostra società che opera dalla fine degli anni 70 a inizio anni 80 ha creato una fitta rete di strutture distribuite su tutto il territorio nazionale che ci ha concesso della scontistica per prestazioni sanitarie. Quindi diciamo che è una carta che offre la possibilità a chiunque, perché questa è una caratteristica della carta, di poter accedere a queste strutture non avendo dei requisiti particolari. Quindi chiunque la può acquistare ad un prezzo assolutamente conveniente ed ottenere dei servizi presso appunto questa rete di strutture. Rete di strutture che è facilmente riconoscibile perché si trova sul web, sul nostro sito web, con la possibilità di una geolocalizzazione ed essendo appunto oltre 2.300 strutture dislocate in tutto il paese, anche nei vari comuni o centri più piccoli il cittadino lo può raggiungere serenamente. Quali sono i principali vantaggi che offre questa carta? I principali vantaggi? Non ha bisogno di una categoria di appartenenza. Chiunque la può acquistare. Vantaggio numero due è una carta che è acquistata dal titolare, dà la possibilità di copertura anche per il coniuge o convivente, per i figli ma anche per i genitori del titolare stesso. Quindi che cosa vuol dire? È una carta che copre tre generazioni, dal nonno al nipote. Altri vantaggi? Può essere utilizzata in modi differenti. Quindi ad esempio abbiamo aziende che l'hanno acquistata e che l'hanno utilizzata come benefit per i loro dipendenti. Ha quindi una possibilità di essere distribuita in maniera estremamente semplice. Non ultimo il fatto che può essere detraibile per l'acquirente ultimo se questo fosse per esempio un'azienda. Ecco, a dimensione cliente voi l'avete presentata al mondo bancario. Quali vantaggi possono avere le banche e come possono utilizzarla? Beh, diciamo che la nostra attenzione verso questo evento è stata proprio la tavola rotonda a cui partecipiamo, ovvero la loyalty. Perché? Perché la banca, come sappiamo, è uno degli enti maggiormente radicati sul territorio. Siccome oggi il welfare aziendale rappresenta comunque un punto di forza per molte aziende, pensiamo quindi anche per le banche stesse a fronte del fatto che si sono rivolte ad assicurazioni, che si sono rivolte a fondi. Quindi perché no help card? Nel senso è la possibilità di creare loyalty, di fidelizzare il cliente, e riducendo e semplificando tutte quelle che sono in realtà le procedure che dovrebbero seguire altre tipologie di welfare. Qual è il grado di soddisfazione dei titolari della help card? Diciamo che gli ultimi dati ci dicono che il rinnovo della help card è all'incirca intorno al 90%, perché è una carta che si rinnova di anno in anno e quindi diciamo che insomma siamo estremamente soddisfatti del dato, vuol dire che chi l'ha usata comunque sia ne ha tratto beneficio e questo beneficio si è ripercosso nel rinnovo della carta stessa. Quanto costa diventare titolare di help card? Help card costa 24 euro l'anno, quindi come uno dei nostri slogan sono due caffè al mese, niente più di questo. Quante sono le strutture convenzionate? 2300 sono le strutture che abbiamo in convenzione. Mi piacerebbe fare una piccola precisazione, nasce help card come welfare, ma welfare a 360 gradi, cioè abbiamo voluto estendere il concetto di salute non solamente alle strutture sanitarie, per cui le abbiamo di tutti i tipi, da poliambulatori a RSA, addirittura centri termali, ma abbiamo anche allargato a quello che è ottici, abbiamo un gruppo di ottici enorme su tutto il paese, e anche a palestre, perché secondo noi la dobbiamo intendere a 360 gradi veri. Grazie. 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 Grazie.